Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo ancora su Final Fantasy 7 Ever Crisis ed oggi tratteremo un'argomentazione che probabilmente in molti già avranno affrontato e sicuramente avranno visto anche altrove, perché ci sta. Diciamo che è un argomento che sto trattando un po' tardi, se così vogliamo dire. Però, come vi ho già detto in altre situazioni, il mio obiettivo principale qui su Ever Crisis era costruire una base solida. Adesso che finalmente ho una base solida con ovviamente vari elementi da poter sfruttare e utilizzare all'interno del mio gioco, posso finalmente dedicarmi a dei contenuti un po' più particolari, un po' più avanzati. E oggi nello specifico ci occuperemo di un altro dei solo content disponibili all'interno del gioco, ovvero la Cetra Sealed Tower, ovvero la Battle Tower, Sealed Tower of Cetra, chiamatela come volete. Una modalità di gioco che può essere catalogata come una sorta di Need in the Game che mette alla prova non solo la vostra capacità di team building, quindi la vostra capacità di poter costruire un team funzionale, ma anche la vostra capacità di poter gestire o meno un combattimento qualora ce ne fosse l'occasione. Nello specifico oggi tratteremo uno dei piani che ovviamente tende ad essere probabilmente un pilastro o comunque un primo blocco per i giocatori, ovvero il piano 30. E' vero che io adesso ho comunque la possibilità di poterlo affrontare in maniera molto più sciolta o comunque in maniera molto più rilassata, però questo video non serve soltanto a farvi vedere come completare ovviamente lo stage, ma serve a farvi capire come preparare lo stage. Cioè ogni volta che bisogna effettuare comunque una sfida con un boss, dato che comunque in questo caso abbiamo un boss, dobbiamo in un qualche modo studiare una strategia. Non farò ovviamente delle guide sui piani precedenti perché comunque sia i battle level come potete vedere sono molto bassi. Fino al livello 20 addirittura il battle power è di 45.900 che tutto sommato è abbastanza raggiungibile in un paio di giorni, basta che si gioca in modo un po' più frenetico e in un paio di giorni comunque avere un team con un battle power di almeno 45.900 è comunque fattibile. anche se vi ricordo che il battle power o comunque il power raccomandato non deve scoraggiarvi più di tanto, potete affrontare delle quest più difficili anche con dei team più deboli come vi ho fatto vedere in altri video. Quindi però se volete ovviamente avere un punto di riferimento e cercare di capire se siete all'altezza o meno, comunque 45.900 punti di power non sono tantissimi. ed è per questo che ovviamente mi vado a spostare direttamente verso il piano 30 perché il piano 30 richiede già un battle power di 122.500. Non è soltanto questo che mi ha spinto ovviamente a fare una guida per quanto riguarda la battle tower ma soprattutto il fatto che qui abbiamo praticamente un primo vero boss da dover affrontare all'interno del gioco ma soprattutto abbiamo praticamente un effetto che potrebbe darci qualche problema ovvero che l'attacco fisico all'inizio della wave di ogni nostro avversario è praticamente un più tre quindi ci ritroveremo praticamente tutti i nostri avversari con un buff fisico già a tre livelli quindi decisamente forti per così dire almeno dal punto di vista fisico. ed è per questo che oggi parliamo e oggi ovviamente avremo a disposizione la possibilità di gestire il combattimento e di creare un team adatto alla risoluzione del conflitto. Che cosa bisogna fare innanzitutto per avere una panoramica di quello che ci aspetta? Andare a guardare le informazioni che ci interessano dello stage. Quindi in questo caso abbiamo la battle info che per l'appunto ci informa di tutti i buff, debuff o caratterizzazioni dello stage che come potete vedere abbiamo appunto attacco fisico buffato all'inizio di ogni wave di più tre power raccomandato di 122.500 e poi l'esperienza che riceve il personaggio completato l'evento 18.150 che sono comunque un bel po' di punti esperienza. Per quanto riguarda invece la tabella dei nemici potete vedere che praticamente abbiamo una debolezza fondamentalmente di fuoco una debolezza elementale fuoco mentre invece il sigillo che ci viene raccomandato per il boss è il sigillo triangolare quindi già qui Cloud comunque gioca un ruolo fondamentale perché il sigillo triangolare per Cloud con la Murasame è praticamente un game breaking avendo il bonus del sigillo se avete l'arma portata ovviamente a livello 90 e infine poi le ricompense che sono praticamente 15 memory fragment per ogni personaggio più 300 gemme, 9000 gil e quindi altre risorse che si vanno ad aggiungere alla mia saccoccia una volta ottenute queste informazioni ovviamente andiamo a selezionare lo stage e andiamo a costruire il team team che io in teoria forse addirittura dovrei già avere perché in realtà ho fatto Battle Tower no però qui non ho praticamente costruito il team quindi mi costruisco il team faccio un po' di setup qui e lì a destra e sinistra dopodiché ci vediamo con la spiegazione del team e come andremo ad agire con questa formazione allora eccoci qua con il mio setup che come potete notare ovviamente è incrementato a causa del fatto di aver incrementato gli HP perché in questo caso sono costretto quasi ad aumentare gli HP però il setup comunque come potete vedere è abbastanza standard la cosa fondamentale sarà Eris con The Brave che mi consentirà di abbassare l'attacco fisico dei nostri avversari è l'unica cosa da tenere praticamente a mente in questo stage molto importante e poi invece gli altri mi servono praticamente per in un modo o nell'altro cercare di fare più danno possibile potrei effettivamente dare anche delle cure diciamo delle cure individuali perché comunque con Eris se devo mettermi a debuffare non riesco magari a curare in tempo che potrebbe essere un problema quindi probabilmente switcherò il The Brave con Seppo forse gliela switch a lui perché così almeno con Eris posso curare direttamente oppure switch a cloud non lo so devo decidere uno dei due probabilmente mi conviene che abbia di Brave al posto di Eris perché così Eris io posso comunque curare posso concentrarmi sulle cure mentre invece il debuff viene dato ovviamente cioè viene inflitto praticamente da uno dei due credo che sia meglio cloud che comunque Sefirot ti ha l'arma un po' più forte direi di sì va bene faccio questo piccolo aggiustamento e andiamo in battaglia ok eccoci qua ho dato a cloud il ho dato a cloud il The Brave anche se ovviamente con i primi diciamo che con i primi nemici non credo che ne avremo bisogno vedete cloud riesce a debuffare però i nostri primi avversari sono molto deboli in realtà ecco l'unico che in teoria ecco qua l'unico che dobbiamo andare a colpire subito questo è sicuramente il principe Sajin che è quello più fastidioso ok quindi abbassiamo ho messo il mana breach ho messo il mana breach proprio per aiutare in questo caso stiamo effettivamente perdendo un po' di tempo a causa ok qui abbiamo risolto qui ora è completamente a terra l'attacco fisico incrementato sul Piros sinceramente non ci interessa perché lui attacca solo con attacco magico quindi cioè il fatto che abbia potenziato l'attacco fisico non ci interessa letteralmente ok e siamo riusciti a tenerlo a bada ora facciamo una cura preventiva prima dell'ultima fase ok e siamo arrivati al nostro amichetto siamo arrivati al nostro amichetto che è già abbassiamo di pesa magica ora spero che Cloud vada da solo di Brave in realtà ok oh no non ho cambiato la stance uff uff eh qui abbiamo rischiato ok vedete io posso riuscire comunque a curare a lui abbiamo ridotto l'attacco fisico io ero addirittura la difesa fisica ok qui facciamo un nostro buff un nostro potenziamento vedete lo abbiamo praticamente debuffato di tutto praticamente vabbè ho aumentato anche un po' gli HP di tutti i membri del party quindi in teoria dovremmo riuscire a gestirla la situazione eh peccato che ci sono solti i debuff giusto giusto ora però ok ok così posso concentrarmi mi concentro dal punto di vista offensivo ok di brave con una con un buff di attacco dovremmo sopravvivere ok perfetto cioè notate che comunque anche se abbiamo praticamente un battle power più alto rispetto a quello richiesto il combattimento di per sé può essere impegnativo perché può essere impegnativo vedete c'è il combattimento di per sé può essere impegnativo comunque nonostante tutto anche se noi abbiamo comunque un buon setup perché abbiamo comunque un buon setup ok e ora qui andiamo a spezzarlo e qui qui tecnicamente siamo già nella parte finale qui siamo letteralmente nella parte finale quindi una volta che viene breakato potete rushare e lo shottate però notate come già il gioco qui diventi molto più strategico rispetto alle battaglie classiche e quindi siamo riusciti a vincere è vero che non c'è stata grossissima difficoltà però vi assicuro che comunque trovare la strategia giusta non è sempre facile non è sempre la cosa più non è sempre la cosa più semplice quindi ci tenevo comunque a fare una sorta di guida anche per farvi capire un pochettino come poter strutturare un team un team valido a mio avviso che comunque questo era un team valido cloud che si occupava del debuff fisico e del debuff in generale allora in realtà per essere forse un po' più equilibrato avrei potuto dare il the brave a sephiroth essendo comunque un attacco magico in modo tale che avrei potuto fare più danno e quindi cloud abbassava la difesa fisica sephiroth abbassava l'attacco fisico io abbassavo come eris l'attacco magico e quindi avremmo avuto forse un team più equilibrato però facendo così avrei perso comunque danni durante ogni turno perché per l'appunto avrei avuto tutti i personaggi impegnati a debuffare e nessuno impegnato a fare danni mentre invece se un personaggio è impegnato a debuffare un altro personaggio è impegnato a curare il terzo personaggio può fare danni e in questo caso il personaggio che mi conviene che facesse i danni era sephiroth quindi questo è come interpreto io praticamente il team e come cerco in un modo o nell'altro di proseguire all'interno del gioco detto ciò ci vediamo con il prossimo boss della battle tower spero che questo video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima